Musica Io vorrei aggiungere che, comunque sia pubblicità o cose così, sono... Alza la bocca Sono protetto dal firewall dell'istituto, quindi è difficile che tu entri determinati siti che non dovresti Riguardo ai giochi, prima bastava abbassare la pena e prendere il telefono Musica 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 Dunque non fanno niente, poi si prendono il merito, non c'è perché da parte degli studenti che nel frattempo lavorano anche per gli altri Impossenti, non lo sa ragazzi, non c'è ragazzi No, per il fare di uno d'accordo, sono gli studenti che regolano anche il gruppo Musica 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 La conoscenza che ho, secondo me, è un po' la seconda o la terza, perché in prima o media siamo abituati a sfruttare le pote a casa come un elemento per il gioco, quindi già nella seconda o la terza abbiamo un po' di sviluppo e quindi un po' di autoresponsabilità per capire come si dovrebbe usare le pote. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.